Il PDL in rivolta vuole la grazia per Berlusconi e si prepara a scendere in piazza domani a Roma. Riforma della giustizia o elezioni al più presto è la nuova rotta indicata dal Cavaliere. Alessandro Bondi con una nota inasprisce i toni, soluzioni o sarà guerra civile, fa sapere il coordinatore PDL. Ma il Quirinale non raccoglie la sfida ricordando che è la legge a stabilire quali sono i soggetti titolati a presentare la domanda di grazia. Ore frenetiche anche nel PD che respinge l'out-out del PDL si prepara a tutto come ha sottolineato il segretario Epifani. Letta richiama la responsabilità temendo che le fibrillazioni interne al partito possano contribuire alla fine prematura del suo governo. Ma Erosi Bindi a porre la questione in modo chiaro è il momento di decidere se rinnovare la fiducia all'esecutivo. Il Movimento 5 Stelle torna a puntare dritto contro il Quirinale sull'ipotesi di riformare la giustizia. Nessuno si azzardi a modificarla insieme al partito capeggiato da un delinquente, avverte Grillo. Insorgono anche i magistrati di sinistra, mentre il capogruppo La Camera, Nuti, mentisce Repubblica. Nessuna apertura ai democratici per abolire il Porcellum, il PD e il PDL. La crisi pesa sempre di più sugli italiani. Secondo i dati di Confindustria, la spesa nell'ultimo anno è stata ulteriormente ridotta di 3.600 euro. Quasi un mese e mezzo di consumi svaniti. Cinghia stretta su quantità e qualità, sacrificate anche le spese primarie. In controtendenza i dati di Federalberghi che certificano una leggera ripresa del settore turismo. E si riaffaccia l'incubo di Al-Qaeda per ambasciate e turisti americane. Il Dipartimento di Stato USA parla di minacce gravi e credibili. Chiuse 21 sedi diplomatiche in Nord Africa, Medio Oriente e Asia Centro-Meridionale. Sicurezza rafforzata anche in Italia. Obama allerta i Marines e raccomanda assumere ogni misura necessaria. Buongiorno, allora non possiamo che cominciare dal terremoto provocato dalla condanna in Cassazione a Silvio Berlusconi per frode fiscale e grazie a riforma della giustizia sono i temi in cima alla strategia di attacco del PDL che domani conta di scendere in piazza. Vediamo. Tentare il tutto per tutto, costi quel che costi. Berlusconi non avrebbe la minima intenzione di dimettersi dal senatore né di lasciarsi sopraffare dalla condanna. Ieri, alla riunione dei gruppi parlamentari del PDL, fra momenti di commozione, rabbia e dure prese di posizione sul da farsi, il Cavaliere ha indicato la strada da percorrere, anche se nulla di definitivo è stato ancora deciso. In piedi c'è l'ipotesi elezioni in autunno qualora la riforma della giustizia non andasse in porto, ipotesi che il partito è pronto a prendere in considerazione, ma solo dopo aver tentato la carta della grazia. Toccherà al capo dello Stato e il ragionamento del PDL difendere la democrazia e lo Stato di diritto contro lo strapotere dei giudici. Questo governo implicava anche una pacificazione che attenuasse quello scontro frontale tra berlusconismo e anti-berlusconismo fondato sull'uso politico della giustizia e che ha portato al fallimento della Seconda Repubblica, spiega oggi Fabrizio Cicchitto. Ma il leader dello schieramento di centrodestra è stato condannato a quattro anni di reclusione e privato dei diritti politici e di libertà. Invocare in questo contesto un intervento pacificatore del Presidente della Repubblica nell'ambito dei suoi poteri istituzionali quindi non è un'indebita pressione, come dice Pifani, ma proprio il tentativo di far diminuire la pressione politica che si è molto elevata. I due capigruppo, Renato Schifani e Renato Brunetta, sono già pronti a fare pressing sul Quirinale affinché Giorgio Napolitano conceda la grazia a Berlusconi, pena di missioni in massa di tutti i parlamentari e causa istituzionale. Dal Presidente della Repubblica, che rientrerà questo weekend delle vacanze, per ora nessuna dichiarazione pubblica. Dal Colle invece è filtrata una risposta che si limita a ricordare che i soggetti titolati a chiedere la grazia non sono i capigruppo di un partito e la legge è chiara sulla concessione. I big e i peones del partito però non demordono, anzi rilanciano. O la politica è capace di trovare delle soluzioni, capace di ripristinare un normale equilibrio fra i poteri dello Stato e nello stesso tempo rendere possibile l'agibilità politica del leader del maggior partito italiano, tuona oggi Sandro Bondi, oppure l'Italia rischia davvero una forma di guerra civile dagli esiti imprevedibili per tutti. E resta per ora in piedi l'ipotesi di tenere domani pomeriggio una manifestazione a Roma a sostegno del Cavaliere, ministri compresi, come chiede Maurizio Gasparri. Insomma la tensione è altissima, nonostante Berlusconi continui a ripetere che non vuole sbarrare la strada all'esecutivo e che il suo primo pensiero è per l'Italia. La convinzione del Cavaliere, d'altra parte, è che sarà il PD ad implodere e a fare la prima mossa staccando la spina al governo. Ecco, e sull'outout di Berlusconi o riforma della giustizia o ritorno al voto interviene Guglielmo Epifani, il segretario del PD che rispedisce al mittente l'ultimatum e dice che il suo partito a riformare la giustizia alla maniera di Silvio Berlusconi non ci pensa proprio ed è pronto a tutto. Gli effetti della sentenza Mediaset sul PD iniziano a farsi sentire, perché se nel breve, a botta calda, è stato Epifani a dettare la linea parlando di rispetto della sentenza e di distinzione tra politica e vicende giudiziarie, ora la fibrillazione nel partito è visibile e rischia di indebolire ancora di più il governo di Enrico Letta, che ieri è tornato a sottolineare l'importanza del suo operato. Sarebbe un delitto far cadere l'esecutivo, ha detto ieri il Premier, ma per il futuro non intende accettare ultimatum o minacce. Se ci sono le condizioni vado avanti, altrimenti sarò io stesso a spegnere la luce. Enrico Letta teme che il fuoco amico del PD contribuisca alla fine prematura del suo governo. Rosi Bindi pone la questione in modo chiaro e inequivocabile. Non possiamo far finta che non sia accaduto nulla, è il momento di decidere se rinnovare la fiducia al governo, dice l'ex presidente del partito, che chiede all'esecutivo un cambio di passo. Basta con un atteggiamento troppo acquiescente con il PDL. Le critiche per le richieste del partito di Berlusconi, dall'appello alla grazia napolitano, alle richieste di riforma di giustizia oppure al voto, arrivano anche da giovani turchi e renziani. Matteo Orfini invoca l'intervento del presidente del Consiglio e di Napolitano affinché facciano finire questa pagliacciata, giudicando quello del PDL e un atteggiamento para-eversivo, mentre Paolo Gentiloni si chiede se una maggioranza così tenogenea sia in grado di prendere decisioni difficili. La situazione nelle mani di Berlusconi è dal suo atteggiamento che dipende dalla tenuta del governo. Di ultimatum non ne vuole sentir parlare neanche il segretario del partito Guglielmo Epifani, che dal palco della festa regionale PD in Emilia Romagna è chiaro. Il PDL vuole buttare su di noi la responsabilità della rottura del patto di governo. Noi dobbiamo stare fermi a quanto abbiamo detto e prepararci a tutto. Di fronte al precipitare della situazione, Bersani starebbe pensando a un'accelerazione, ovvero sfruttare le forzature sulla giustizia di Berlusconi per andare subito al voto e candidare Enrico Letta in contrapposizione a Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze avrebbe fiutato il pericolo e invitato i suoi a non prendere posizione per puntare a parlare direttamente al popolo delle primarie, magari con la sponda della sinistra ex alleata del PD. Vendola potrebbe cercare nuove convergenze con Renzi, mentre sarebbe più complicato fare accordi elettorali con Letta, visto che Sella, l'opposizione, è da sempre contraria alle larghe intese. E contro la riforma della giustizia al modo di Berlusconi si scaglia anche Beppe Grillo, che però resta sempre arroccato nella sua posizione di chiusura nei confronti del Partito Democratico, anche se in proposito nelle ultime ore c'è stato un piccolo giallo. Vediamo quale. Dopo il titolo falso di Repubblica di più di un mese fa su Una cosa mai detta, oggi viene scritto di una nostra apertura al PD, ovviamente falsa. Lo abbiamo detto più volte, il PD è il PDL e con il PD mai. La smettita, firmata Riccardo Nuti, capogruppo grillino, la camera arriva via Twitter, intorno a mezzanotte replicata in mattinata su Facebook. Qualcuno ora parlerà di giallo, qualcun altro di confusione, altri ancora di un tiro mancino. Quel che è certo è che se non vero, il documento reso noto da Repubblica, spedito raccontava ai parlamentari grillini un paio d'ore prima della sentenza Berlusconi, appariva quanto mai verosimile, affondando ancora una volta nel punto più molle, più vulnerabile dell'universo a 5 stelle. Che cosa dovrebbe fare il PD? Vi era scritto, infatti, chiudere con il governo, fare una legge elettorale con noi e andare a votare. A formularla, la proposta, potenzialmente in grado di ribaltare gli equilibri del governo, sarebbe stato proprio quel Riccardo Nuti che poi ha smentito. Ciò nonostante ci vuole poco per capire che di fronte a una caduta del governo Letta sarebbe proprio quella l'unica strada alternativa all'ipotesi di nuove elezioni, tanto unica quanto probabilmente utopistica, visto che dopo le proposte fatte a suo tempo a Bersani e poi cadute nel vuoto, dai vertici del movimento sono arrivati solo mastodontici e non indolori, no. Senza contare l'eventuale probabile contrarietà ad una simile soluzione non solo del Quirinale, ma prima ancora questa si sicura di buona parte del PD. Ma come sempre nei momenti di buio le illusioni sono continuamente dietro l'angolo. Quella che è invece chiara, trasparente e senza tema, dismentite, è la posizione di Beppe Grillo nei confronti di ogni ipotesi di riforma della giustizia, così come auspicata da Napolitano e che ora, con il pressing sul Quirinale da parte del PDL, è diventata materia di scontro più incandescente che mai. Nessuno si azzardi a modificare la giustizia, insieme al partito cappeggiato da un delinquente, si leggeva infatti sul blog di Grillo. Il Movimento 5 Stelle non starà a guardare, né si limiterà a interpellanze parlamentari, ma mobiliterà i suoi elettori. Le coincidenze non esistono, aggiungeva, e questa fretta di riformare la giustizia dopo la condanna di Berlusconi è altamente sospetta. Sono nuove violente fibrillazioni politiche che non possono lasciare indifferenti gli osservatori economici, tutti per la verità in questo momento in stand-by, in attesa di vedere l'evolversi della situazione in Italia, di un paese che è spesso messo nella lista dei sorvegliati speciali. I titoli della Galassia Berlusconi hanno tenuto e tenuto bene. Lo spread della Galassia nazionale e questa interessa a tutti, molto di più è sceso. Morale, la pressione dei mercati ma i teneri con il Cavaliere e nemmeno con l'Italia proprio non c'è stata. Però, in rapida sequenza, una volta digerita mediaticamente la sentenza della storia su Berlusconi, si sono rimaterializzate le solite domande. Un gioco al se fosse, magari non troppo ossessivo, tipo se fosse crisi, se rifosse voto, che cosa succederebbe? Qualcosa di più di un esercizio tecnico, visto che parliamo di noi, dell'Italia massacrata dalla statistica su PIL, occupazioni, indebitamento, competitività, evasione fiscale, burocrazia e anche corruzione. Il rischio Italia, che ebbe l'apice con i 575 punti di spread che constrinsero proprio Berlusconi a dimettersi, è uno di quegli elementi scomodi, non facili, da scrollarsi di dosso. Resta sotto traccia, ma nemmeno tanto. Sempre ammesso che uno alle trombette delle agenzie di rating ci creda ancora, Standard & Poor's, pochi giorni fa, ci ha gratificato di una non troppo invidiabile prospettiva di ritrovarci con un'affidabilità spazzatura tra pochi mesi. E però lo spread dopo la sentenza è sceso. Se peraltro si guarda i titoli delle società di Berlusconi, ci si accorge che le larghe intese hanno fatto plus valenza. Il valore in borsa delle ricchezze della famiglia del Cavaliere in un anno è aumentato e tutt'altro che diminuito. Prima i mercati ci guardavano come una nazione malata, potenzialmente contagiosa, in un contesto di prevenzione. Adesso siamo una nazione sempre malata, ma in un contesto di contagiati, chi più chi meno. Ma chiaramente nel momento in cui la nostra crisi è peggiorata e è intaccato i consumi, compresi gli acquisti di merci tedesche, diciamolo, qualcosa si è mosso davvero. Ecco perciò, tassi bassi, bassissimi e confermati, Mario Draghi giovedì è stato illuminante sul punto. E poi, dopo veramente tanti anni, la battaglia sul deficit è stata in parte vinta. Siamo sotto quel benedetto 3% che ci tiene agganciati all'Europa dei migliori, se non altro vicini alla locomotiva e non più vagone di coda. Tutto questo rende l'Italia con o senza Berlusconi un paese percepito diversamente, anche se non necessariamente un paese diverso. Ecco, ma poi c'è anche il problema del lavoro, il problema dell'occupazione. C'è stato un vivace scambio di battute e di punti di vista tra la Fiat e la FIOM dopo l'incontro di ieri a Roma, un incontro dal quale il leader della FIOM, Landini, è uscito pessimista. La Fiat ha detto che non ha intenzione di applicare la sentenza della Corte Costituzionale sul diritto di rappresentanza in fabbrica, ma la versione dell'ingotto è ben diversa. Assenteista o peggior ambasciatore per l'Italia, Sergio Marchionne può scegliere o freggiarsi del titolo appioppato gli da Landini al termine del vertice FIOM-Fiat, in cui spiccava proprio l'assenza dell'amministratore delegato, oppure accettare la poco invidiabile Feluca del peggior rappresentante italiano all'estero, che ieri sera durante una festa PD Susanna Camusso non ha esitato ad assegnargli dopo le dichiarazioni sull'impossibilità di fare imprese in Italia. Basta e avanza per rendere chiaro il clima rovente e non esattamente costruttivo tra il lingotto e la CGL nelle sue varie articolazioni. Chi sperava che ieri, dopo due anni di blackout totale, l'incontro tra i manager FIAT e lo stato maggiore della FIOM potesse portare a una fumata bianca, è rimasto deluso e del resto non poteva essere altrimenti. L'incontro è andato male, parole di Landini appena uscito dagli uffici romani della FIAT, dopo tre ore di confronto con il responsabile delle relazioni industriali del lingotto, Pietro De Biasi. Lo scontro è sulla sentenza della consulta che ha bocciato la norma dello statuto dei lavoratori che esclude dagli stabilimenti i sindacati che non firmano l'accordo aziendale applicato in fabbrica. Per Landini la FIAT non vuole applicare quella sentenza e dunque non vuol far rientrare la FIOM che a differenza delle altre sigle sindacali non ha mai voluto siglare il famoso accordo di Pomigliano. Una versione subito smentita dal lingotto che afferma di voler sì rispettare la decisione della consulta ma aspetta che siano i giudici di merito e non certo Landini, recita la nota FIAT, a decidere le modalità di applicazione. La FIOM è decisa a continuare la battaglia legale per riavere la propria rappresentanza sindacale nelle fabbriche FIAT già a settembre e chiede al governo di far rispettare i principi costituzionali oltre che di aprire un tavolo aziende sindacati per discutere degli investimenti e delle prospettive per gli stabilimenti italiani che sostiene Landini corrono il serio pericolo di chiudere. È un tema che sarà affrontato a settembre da Marchionne con i sindacati con cui c'è un dialogo aperto e la promessa della FIAT che invece di rivedere di nuovo la FIOM non vuol saperne tanto da respingere seduta a stante la richiesta di Landini di fissare un nuovo incontro. Sono i primi di agosto i giorni in cui la maggior parte degli italiani parte per le ferie, ferie ai minimi termini per la verità visto che di soldi ce ne sono ben pochi eppure qualche piccolo segnale di ripresa comincia ad intravedersi ma soprattutto grazie all'aumento del turismo straniero. Sì perché gli italiani ci dice Confindustria invece e negli ultimi cinque anni hanno visto notevolmente diminuire la propria possibilità di acquisto, la propria capacità di spesa e si parla di migliaia di euro. Che gli italiani stiano stringendo la cinghia è ormai noto ma ora sappiamo anche di quanto si siano cuciti i portafogli. Guardando agli ultimi cinque anni è come se fosse sparito un mese intero di consumi all'anno. A fare i conti è Confindustria che guarda la spesa media del 2007 e ci trova quasi 30.000 euro a famiglia, poi confronta gli stessi dati nel 2012 e ci trova 3.660 euro in meno. Un dato che parte dalle fredde cifre e arriva diretto sulle bollenti spiagge italiane, sempre meno affollate. Secondo Coldiretti ci sono quasi 3 milioni di italiani in meno rispetto allo scorso anno che partiranno questo mese di agosto. In pratica due italiani su tre, il 67%, quest'anno non si muove da casa. E di quelli che partono la maggior parte resta entro il confine italiano, il 70%. L'unico esodo previsto nel mese è proprio quello alle porte. Non solo grattacapi però. Se ad agosto rischiamo di trovare spazio in spiaggia potremmo anche trovare una sorpresa a settembre. Gli amanti del deserto sulla costa potrebbero essere delusi da un dato apparentemente in controtendenza, quello di federalberghi che segna un aumento di un timido 1,6% di italiani che tra giugno e settembre hanno deciso di trascorrere almeno una notte in albergo. In sintesi, la spending review ha portato le famiglie italiane a ridurre le vacanze e soprattutto godersele prima e dopo agosto, il mese più caro. Tutto coerente, così come l'aumento di presenze di chi la crisi non la soffre, gli stranieri. Loro in albergo ci vanno volentieri. Sempre l'osservatorio di federalberghi ci dice che sono aumentati del 3%. Non vuol dire che il settore sia tornato in salute. I 15,3 miliardi di euro di giro d'affari del 2012 sono scesi quest'anno a 14,9 miliardi. Ma che soffre meno di quanto temuto? Molto meno. A ben guardare. Il confronto con l'anno precedente fa insultare federalberghi che parla di ripresa, perché nel 2012 il calo era stato enorme, del 19%. Vuol dire che esiste una boa del settore ed è passata alle spalle. Si consoli che il mare lo vedrà ancora animato da tuffi, bichini e bibite ghiacciate, ma solo dalla tv. Forse su quelle spiagge ci potrà tornare già dall'anno prossimo. Forse. Ecco, prima di passare alle notizie dell'estero c'è una notizia di cronaca di cui vi devo parlare, perché ieri sera c'è stata una violenta esplosione poco prima, anzi questa mattina, poco prima dell'alba a Torino, dove è scoppiata una delle bombole di gas del sistema di incendio all'interno del Museo delle Scienze. La deflagrazione ha sventrato buona parte dei sotterranei, radendo al suolo alcuni padiglioni, non ci sono stati feriti e non c'è ancora una valutazione completa dei danni. Da ora i vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza il museo. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente. Dunque vi parlavo delle notizie dall'estero, perché è stata diramata da parte degli Stati Uniti un'allerta terrorismo, soprattutto domani, il giorno in cui la Casa Bianca teme una ondata di attentati, per questo ha chiuso numerose sedi di consolati e di ambasciate, ma per ora è in Afghanistan che si è scagliata la furia dei terroristi contro il consolato indiano. Vediamo. Era il consolato indiano a Jalalabad in Afghanistan l'obiettivo dell'attacco sferrato questa mattina da almeno tre kamikaze. È stata una strage. Tra le vittime e quasi tutti i civili ci sono anche diversi bambini. A meno di 24 ore da quello che secondo Washington potrebbe essere il giorno della grande paura con l'asticella del rischio attentati contro obiettivi diplomatici americani che domani segnerà il livello massimo, la strategia del terrore sembra giocare d'anticipo, anche se i talebani hanno subito negato la paternità dell'attentato. È iniziato così nel peggiore dei modi il conto alla rovescia del Dipartimento di Stato americano che ha deciso di tenere chiuse per la giornata di domani le ambasciate e i consolati in una ventina di paesi considerati ad alto rischio. In particolare in Medio Oriente, Nord Africa, nello Yemen, l'ambasciata statunitense, così come quella britannica, resteranno sbarrate anche lunedì. Ci sono minacce gravi e credibili da parte di Al-Qaeda, in particolare di un gruppo terrorista iemenita, fanno sapere dall'amministrazione Obama. Non sembrano esserci al momento allarmi particolari in Europa, ma la vigilanza è comunque aumentata su tutti gli obiettivi sensibili. I cittadini americani sono stati invitati a non recarsi in località poco sicure e ai turisti si consiglia massima allerta per tutto il mese di agosto. Le ultime informazioni raccolte da Washington parlano di piani terroristici allo Stato avanzato. Da qui l'allarme globale, la decisione di aumentare i militari anche nelle basi di Sigonella in Sicilia e di Rota in Spagna per intervenire rapidamente in caso di emergenza. Le date considerate più a rischio sono appunto domani, il compleanno del Presidente Obama, la fine del Ramadan, il 7 di agosto e ovviamente l'11 settembre. A rendere il clima ancora più pesante dopo le parole del neo Presidente iraniano Hassan Rouhani, che ha definito, poi in parte ritrattando Israele una ferita per il mondo musulmano, arriva al Zawairi. Il numero uno di Al Qaeda accusa gli Stati Uniti di aver complottato con l'esercito egiziano per far cadere il Presidente Mohamed Morsi, deposto un mese fa. Ecco, adesso torniamo a parlare di Alma Shalabaieva, la donna kazaka rimpatriata in modo illegale forzato dall'Italia ormai due mesi fa e di cui il marito, il dissidente kazako, è stato arrestato nei giorni scorsi dai gendarmi francesi a Cannes in Costa Azzurra. Alma Shalabaieva perché la donna, che come sappiamo è agli arresti domiciliari a casa sua, ha cominciato a parlare, è stata incontrata da alcuni giornalisti e ha fatto alcune dichiarazioni, tra cui appunto quelle di sentirsi spiata anche all'interno della sua abitazione. Tutte le mie richieste di aiuto come moglie di un perseguitato sono state ignorate, dichiara Alma Shalabaieva. In Italia ho detto chi ero ed ho chiesto asilo politico fino all'ultimo, ma in vano. È la versione della moglie di Mukhtar Ablyazov, il dissidente nemico giurato del presidente kazako Nazarbayev, fermato in Francia nei giorni scorsi. La protagonista dell'affaire kazako, il curimpatrio frettoloso e pasticciato, apportato alla richiesta di dimissioni per il ministro dell'interno Angelino Alfano e scatenato un putiferio politico, ha incontrato in questi giorni alcuni giornalisti italiani. Ed oggi rivela che l'accusa di avere un passaporto falso sarebbe stata costruita d'arte. Qualcuno ha aggiunto due pagine bianche al mio documento, dice. Allora ho capito che volevano incastrarmi ed ho detto tutto su di me, su mio marito, sulle persecuzioni in Kazakistan. Avrebbe raccontato di essere la moglie di un dissidente fino a poco prima di salire sul volo charter a Ciampino, ma un uomo le avrebbe risposto. Mi spiace, ormai e troppo tardi, l'ordine è stato firmato. È ancora spaventata il ricordo della notte del blitz nella villa di Casalpalocco e dice che alcuni particolari le resteranno impressi per sempre, come le catenine e gli orecchini d'oro che indossavano quelle 30 persone che hanno fatto irruzione in casa mia, racconta Alma Shalabaeva. Sembravano una gang e poi le pistole, gli insulti, la violenza sul mio cognato. Ero paralizzata, non capivo se erano mafiosi, travestiti da poliziotti o poliziotti dei modi mafiosi. Si dice preoccupata per il marito alle autorità francesi, chiedo che non venga estradato anche lui. Ablyazov era e resta il capo dell'opposizione kazaka. Ringrazia gli italiani per l'attenzione al suo caso e potrà farlo direttamente oggi con la delegazione del Movimento 5 Stelle che è andata a trovarla nella casa dei suoi genitori ad Almati. A capo della delegazione, Alessandro Di Battista, che tramite Twitter ha annunciato il loro arrivo in Kazakistan. Allo Sport fanno discutere le decisioni della Corte federale su Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, finite nell'inchiesta di Cremona sul calcio scommesso. Il procuratore De Martino si dice infatti deluso per la linea morbida della FIGC che non ha ravvisato nessun illecito. La sentenza della disciplinare, primo grado della giustizia sportiva, che ieri ha smontato l'impianto accusatorio di Palazzi, respingendo di fatto per intero la richiesta del procuratore federale di 4 anni e 6 mesi di squalifica per il capitano della Lazio Stefano Mauri, multando il club e assolvendo il Genoa, manda su tutte le furie il PM di Cremona Di Martino. Parole di rabbia da parte di chi indaga sul calcio scommesso dal gennaio del 2011 e che su Mauri in particolare dice di avere certezze granitiche. La prende come una sorta di sconfitta personale Di Martino, lui che per Mauri e Milanetto chiese 15 mesi orsono l'arresto. 8 giorni di scella, l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e posizioni penali, ancora tutte da definire. Un'inchiesta molto vasta, 150 agli indagati e a settembre sarebbero in arrivo. Altri clamorosi colpi di scena. Di Martino infatti lavora ancora all'informativa redatta dallo SCO. È un problema del calcio se certi reati vengono derubricati a livello di giustizia sportiva ad una semplice omessa denuncia, dice il PM di Cremona, che rifarebbe tutto, compresi gli arresti. I tempi differiti tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva restano la prima anomalia, con quest'ultima che ascolta test prima che lo riesca a fare un PM e si esprime prima che lo faccia un Tribunale della Repubblica. L'altro nodo è che la Corte è presieduta da Sergio Artico, pur ritenendo il grande accusatore Gervasoni credibile e le sue accuse fatte davanti ai magistrati utilizzabili, non è da seguito. Secondo la giustizia sportiva, per quanto riguarda il ruolo del capitano della Lazio, non è sufficientemente provata la responsabilità di Mauri, per il quale devono essere ulteriormente vagliati i riscontri e nel dubbio si è a favore dell'accusato. Pur essendo provato l'incontro avvenuto il 14 maggio 2011 a Formello, a poche ore dall'inizio della gara Lazio-Genoa, è provata la volontà del gruppo degli Zingari di prendere contatto con Mauri, tramite il suo amico Zamperini, per proporre l'alterazione della imminente gara, su cui avrebbero scommesso ingenti somme. Facciamo una pausa tra poco. Eccoci di nuovo in onda, allora prima di salutarci la notizia che con un emendamento al decreto del fare si è snellita un pochino alla pubblica amministrazione con l'addio al fax della pubblica amministrazione, appunto questo emendamento prevede che le comunicazioni all'interno della pubblica amministrazione non avvengano più via fax, ma in modo più efficiente e veloce tramite le email, in via telematica. A me dunque adesso non resta che dare la linea a Caterina Bizzarri, al TG Cronache, dove saranno approfonditi molti degli argomenti che abbiamo finora trattato, tra cui si parlerà anche della grazia, vedremo che cosa dice la legge, chi può chiedere la grazia che il PDL chiede in questo momento per Silvio Berlusconi. Grazie per essere stati con noi anche oggi, arrivederci.